ciao a tutti oggi prepareremo la pasta con zucchine speck e pomodorini il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa gli ingredienti sono pasta corta cipolla zucchine tagliate a cubetti speck pomodorini tagliati a metà sale pepe e olio evo diamo il via alla ricetta iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e la facciamo tritare per tre secondi a velocità 7 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere l'olio e insaporire per quattro minuti 120 gradi velocità 3 riunire sul fondo del boccale con la spatola aggiungere lo speck ed insaporire per un minuto 100 gradi anti orario velocità soft aggiungere le zucchine e cuocere per 13 minuti 100 gradi anti orario velocità soft nel frattempo cuocere la pasta in abbondante acqua salata e scolarla al dente aggiungere i pomodorini e cuocere per 5 minuti 100 gradi anti orario velocità soft trasferire nella ciotola con la pasta amalgamare bene impiattare servire pasta con zucchine specche e pomodorini grazie e alla prossima ricetta grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti